Quello di Colonnella, in provincia di Teramo, è il primo centro di addestramento cinofilo in Abruzzo. Un centro di addestramento dei cani aperto a tutti ma con una particolare attenzione alle unità di protezione civile, le prime ad intervenire in caso di calamità naturali, fondamentali ad esempio nel primo soccorso in caso di slavina o terremoto oppure in zone impervie. Qui a Colonnella abbiamo oggi inaugurato il primo centro di addestramento cinofilo qui in Abruzzo. Questo particolare segmento dell'attività di protezione civile, ovvero delle unità cinofile, possa davvero anche in Abruzzo consolidarsi e svilupparsi. Non dimentichiamo che questa specifica attività è quella che si utilizza nei primi minuti, nelle prime ore immediatamente successivi a un disastro, a una tragedia. E' quindi un tema che proprio sulla specifica attività di soccorso deve essere massimamente attenzionato da parte nostra e quindi deve avere tutte le risposte che chiede da parte di noi, istituzioni. Noi siamo otto unità cinofile in preparazione ovviamente perché operative c'è la mia che ha superato una fase del brevetto però poi deve andare avanti e gli altri sono ancora nella fase di preparazione. E poi ci sono gli altri che sono dodici persone che si occupano di soccorso tecnico, quindi di recupero in zone impervie tramite imbragature, corde, quindi per recuperare e soccorrere in zone impervie. L'associazione l'abbiamo fondata a dicembre, è un'associazione che vorrebbe diventare un'associazione di riferimento per tutti perché fare cinofilia non è facile quando si è da soli. Questo è un gruppo che nasce anche per diffondere un po' la cinofilia, quello che è, perché tante persone amano i cani, amano però bisognerebbe proprio indirizzarle per il rispetto sia degli altri, sia di chi non tollera gli animali e sia di chi li ama e non sa magari come gestire. Il campo è a Colonnella, è una zona fantastica, è un'osi naturalistica privata dove ci hanno assegnato un piccolo pezzetto di terra dove abbiamo praticamente allestito una zona di attesa, una zona lavoro.